Grande Fratello VIP 2020 concorrenti, cast, conduttori, puntate, Grande Fratello VIP 5 News, Grande Fratello VIP 5 cast, Ludovica Pagani e Nicola Ventola? GF VIP 5 News, si avvicina la partenza del Grande Fratello VIP 5 e proseguono le indiscrezioni sul cast dei partecipanti, dopo aver definito la squadra degli opinionisti, Antonella Elia Pupo, al fianco del confermatissimo conduttore, Alfonso Signorini, resta da capire chi enterà nella casa del GF VIP 5, tante le indiscrezioni, nulla di ufficiale sin qui, tra i più caldi di queste ultime ore ci sono quelli di Ludovica Pagani, influencer, modella especa e radiofonica, bergamasca che molti considerano la nuova diletta Leotta, e l'ex attaccante di Atalanta Inter Nicola Ventola, e attenzione anche al cantante Riccardo Fogli, frontman e bassista dei Pua tra il 1966 e il 1973 e tra il 2015 e il 2016, Grande Fratello VIP 5 News, cast, concorrenti, rumors, Grande Fratello VIP 5, Antonella Elia opinionista con Pupo, Antonella Elia torna al Grande Fratello VIP, dopo essere stata protagonista come concorrente nel GF VIP 4, oltre che a Temptation Island con il fidanzato Pietro delle Piane, nella quinta edizione la vedremo in una nuova veste, da combattiva concorrente appungente opinionista. Ora, possiamo dirvelo, Antonella Elia sarà una degli opinionisti della prossima edizione di GF VIP, e l'annuncio sociale, Antonella Elia prende l'eredità di Wanda Nara, opinionista del Grande Fratello la scorsa primavera, accanto a lei confermato Pupo, su di noi, nemmeno una nuvola, con lui il GF VIP è una favola. Pupo torna anche in questa edizione come opinionista, si legge sui social del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà a settembre su Canale 5 in prima serata, i concorrenti invece non sono ancora stati annunciati, da settimane girano tante indiscrezioni, da Elisabetta Gregorace a Patrizia De Blanche e tanti altri, ma nulla è ufficiale, vediamo i rumors delle scorse settimane sul cast, Grande Fratello VIP 5, Justine Matera in pole? GF VIP 5 News e cast, Justine Matera il pole per la nuova edizione del Grande Fratello VIP 5? La clamorosa indiscrezione sul cast del reality viene lanciata da oggi, negli ultimi anni Justine ha selezionato con attenzione le sue presenze sul piccolo schermo, preferendo il teatro, sua grade passione alla tv? A Cologno Monzese però si sussurra, che la bella americana sia corteggiatissima dal Grande Fratello VIP, cederà alle tentazioni del noto reality? A saperlo, scrive il magazzine, Grande Fratello VIP 5, Signorini pensa a Caniaman come concorrente, GF VIP 5 News Alfonso Signorini sta pensando anche a Caniaman come concorrente del Grande Fratello VIP 5, l'attore è grande protagonista della sua popera turca da Idre Amer, che sta andando fortissimo nel pomeriggio di Canale 5 in queste settimane, al posto di Uomini e Donne di, Maria De Filippi, Grande Fratello 5 Cast, la fotonica Katia Fanelli nella casa? GF VIP 5 News Rumors, Katia Fanelli nella casa del Grande Fratello VIP 5? La fotonica ex concorrente di Temptation Island, amatissima dal pubblico, che seguì il reality, potrebbe partecipare al reality di Canale 5, alla domande nelle storie su Instagram dei followers, chi le chiedevano se avesse fatto provino per il GF VIP 5, ha risposto con un emui, una faccina, che amicca e strizza l'occhio. Katia Fanelli a fine settembre varcherà dunque la porta rossa della casa più spiata d'Italia per unirsi al nuovo cast di VIP 5? Chissà, di sicuro Alfonso Signorini sta preparando un cast stellare per la nuova edizione del, Frandefratello VIP, Grande Fratello VIP 5, Cast, concorrenti News e Rumors sul GF VIP 5, Grande Fratello VIP 5, Loredana Lecciso al posto di Juan Danara, GF VIP 5 News, Loredana Lecciso al Grande Fratello VIP 5 che partirà a settembre su Canale 5? L'indiscrezione gira, ma attenzione, non da concorrente, la compagna di Albano Carrisi dovrebbe essere opinionista del GF VIP 5 al, fianco di Pupo, confermato, e al posto di Juan Danara, che si è trasferita a Parigi, dove gioca il marito, Mauro Icardi, in conduzione confermatissimo Alfonso Signorini dopo gli ottimi risultati del, Grande Fratello VIP 4 che si è chiusa in primavera con la vittoria di Paola Di Benedetto davanti a Paolo Ciavarro, e Sossio Aruta, Grande Fratello VIP 5, Sossio Aruta, prima o poi tornerò al GF VIP, proprio Sossio Aruta Nostalgia del Grande Fratello VIP sogna di rientrare nella casa, prima o poi ci tornerò, non mi sono confessato abbastanza. È stata un'esperienza molto forte, mi dispiace solo essere arrivato per ultimo e troppo tardi e con la pandemia in corso, oserei definirlo un viaggio incompleto, avevo ancora tanto da raccontare, da risolvere e da far sapere sulla mia persona. Tutto ciò mi ha penalizzato ma comunque sono stato fortunato ad arrivare terzo in classifica e felice nell'entrare, in questa casa più spiata d'Italia, le vie del Signore sono infinite, chissà Patrick II la vendetta, Grande Fratello VIP 5 concorrenti, Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento? GF VIP 5 News, il Grande Fratello VIP 5 ripartirà a settembre su Canale 5, chi saranno i concorrenti? Il cast è in via di definizione, intanto il primo nome sembra essere quello di Elisabetta Gregoraci, l'ex moglie di Flavio Briatore e madre di Nathan Falco era stata accostata dal GF VIP 4 e ora sembra che abbia deciso di dire di sì ed entrare nella casa del reality di Mediaset. Quali altri viponi ci aspetteranno in autunno nella nuova edizione del Grande Fratello? La seconda concorrente che potrebbe partecipare al GF VIP 5 sarà Flavia Vento. Come spiega TV Blog, di certo con Flavia Vento non mancheranno temi e discussioni all'interno della casa più, spiata d'Italia, pronta a non far rimpiangere l'Antonella Elia dell'ultima edizione del GF VIP, a dispetto dunque di quanto si diceva sui media, in particolare di una certa difficoltà a convincere l'ex obbrette di Libero, è di poche ore fa la certezza della sua partecipazione al reality show di Canale 5, Grande Fratello VIP 5 concorrenti, il fratello di Balotelli e Francesco Ricci. GF VIP 5 News, tra i possibili concorrenti del Grande Fratello VIP 5 spuntano due nuovi nomi, si sussurra, che il GF VIP abbia, messo gli occhi su Enoch Barua, fratello naturale di Mario Balotelli, e Francesco Ricci, 28, influencer e fashion blogger, riusciranno i due a entrare nella casa, spiega oggi nella rubrica pillole di gossip a cura di Alberto Dandolo.